Parliamo anche con Dimas Goncalves di questa sconfitta, insomma tu sei entrato gli ultimi 20 minuti e qualcosa è immesso lì, forse si poteva pareggiarla. Sì, purtroppo abbiamo perso questa partita, però prima o poi io sono sicuro che doveva arrivarci perché andare avanti così neanche il Barcellona, neanche le altre squadre più attrezzate hanno fatto. Però siamo contenti che poi alla fine è uscito fuori il nostro carattere e siamo riusciti a fare delle azioni, però c'era questo gol mezzo che bisogna rivedere che non si sa se era fuori gioco o no, comunque ripartiamo il più forte di prima. Tu come l'hai visto invece all'inizio della gara che è stato tanto criticato dalla panchina? La squadra era piuttosto poco reattiva all'inizio. No, ma la nostra squadra siamo abituati, siamo partiti anche così, anche settimana scorsa, anche vi ricordo la partita con il Fonfula in casa, noi abbiamo il nostro ritmo. Purtroppo c'era anche il campo oggi che era molto molto pesante, però non ribadisco, bravi loro che hanno vinto questa partita qua e noi dobbiamo fare quello che stavamo facendo prima. Adesso con questa partita persa è dura, però sono sicuro che ripartiremo più forte di prima. C'è possibilità che questa sconfitta lasci qualche strascico psicologico nei giocatori? No, quello no, perché noi non volevamo perdere questa partita, però inconsciamente prima o poi doveva arrivare. Noi adesso dobbiamo essere bravi, noi più bravi, prendere in mano i più piccoli, insieme al mister, insieme alla società, insieme ai nostri tifosi, di stare tutti quanti coesi. Abbiamo perso una partita, domenica abbiamo una partita in casa, possiamo ripartire subito. Il bello del calcio è questo, che perde una partita, domenica prossima c'è già un'altra importante che possiamo fare, quello che siamo abituati a vincere la partita.